e ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di fortement vi voglio già avvisare che è un altro video replay quindi ecco tipo vi volevo già avvisare che come sempre non ho le ha ma detto che nei replay si vede molto lag e come se ho le ha ma di verità quindi una partita inizio benissimo facendo già due kill con una pistola forse epica forse leggendaria non lo so comunque bevo gli scudini e niente anche la grafica non è meglio i migliori ma come vi avevo detto nel scorso video prenderò provvedimenti per fare dei video migliori e anche per giocare meglio forse ora finalmente sappiamo addirittura la realità della pistola cioè leggendaria qui vicino sento gente intanto vado a prendere vado ad aprire le casse e trovo un loot non chissà cosa ma di c'è qui c'è un player che nemmeno lui sa cosa sta facendo io la mira 1 kg perfetto ora intanto vado un po' all'avventura cercando altri player e infatti li trovo e infatti li trovo ma io come un ato non faccio mai i fight seriamente e li prenderò proprio per finire quindi è un ato quindi li faccio per finire però non finisce mai bene come lo dovevo fare per finire che lo verrà non può calcare te lo giumento un po' per capirlo intanto c'è un altro player dopo averlo ucciso mi sa chi un dragon troviamo un altro player e lo atterro intanto stavo andando alla ricerca dell'amico in questo momento trovo una trappola e la prendo e mi teletrasporto su un ponte in questo momento farò altre kill e credo che siamo già 4 kill perché vedo gente nel fiume cerco di fare la kill con la dicle eccolo qui ho presciato io oggi purtroppo con la dicle non ce la più di più e lo la vado di là se ci avete visto se ci avete visto che ho sparato da tutta altra parte e lo proprio e siamo a 5 kill se tutto va bene intanto dobbiamo degli scivini per curarmi e king taigon lo spara se è più possibile per non curare l'amico intanto lui mi rispara lui inizia a abilitare non king taigon il player avversario per proteggersi e cercare di ucciderlo intanto gli distruggono il muro lo rimetto io ne metto uno e lo rimetto intanto prendiamo tutto il muto che ci sarebbe servito e continuiamo intanto io ero a ben 6 kill e vedo gente da lontano io e king taigon eravamo pronti a ucciderli non so benissimo in quanti siamo rimasti realmente in un po' non lo so comunque proprio in questo quanti volte avrò detto comunque comunque in questo momento credo in quale l'amico king taigon e credo proprio che siamo soltanto in 2 king taigon lo uccide purtroppo smutare niente non rientra ancora in faccia 100-100 al minuto il nevito non era un progetto quindi intanto io vado all'assalto e purtroppo la loro in allagata non sono un progetto che cedero che cosa è questo però l'importante è che nel lavoro di squadra insieme siamo riusciti a uccidere io l'ho indebolito molto perché lui l'aveva fatto 105 quindi l'ultimo io avrebbe fatto la kill lui avrebbe fatto la kill e niente che vi posso dire niente iscrivetevi al canale lasciate un like accendete la campanellina ci vediamo in un prossimo video ciao ciao